Il ritardo clamoroso con cui il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato il via alla conferenza stampa di venerdì aveva fatto pensare a molti che probabilmente chi nel governo optava per una linea più morbida avesse avuto la meglio e che le regole del nuovo decreto non fossero poi così restrittive. Invece praticamente nulla è cambiato rispetto alle previsioni. Italia sarà in zona rossa nei festivi e prefestivi fino al 6 gennaio. Per gli italiani ultimi giorni quindi di semilibertà in vista di una chiusura totale dal 24. Da oggi però sarà vietato spostarsi in altre regioni. Ma proprio in vista del divieto a varcare i confini tanti, troppi, si sono riversati su strade e stazioni ferroviarie per raggiungere i parenti magari all'altro capo dello stivale. E nonostante i controlli delle forze dell'ordine non si sono potuti evitare assembramenti anche sui mezzi di trasporto che si ripeteranno ovviamente al rientro dopo le festività. Resse ancora nei centri storici per gli ultimi acquisti natalizi e per cercare di vivere almeno una festa in anticipo con una capatina al bar o al ristorante. Dal 24 tutti chiuderanno l'accesso ai clienti che potranno soltanto prelevare cibo e bevande da asporto. Per il settore della ristorazione non cambierà nulla, nemmeno nei giorni feriali, dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio, nei quali l'Italia si colorerà di arancione. Una catastrofe per noi, già fin troppo penalizzati, hanno commentato alcuni titolari di ristoranti, mentre altri, come in Campania, dove il governatore De Luca ha anticipato la zona arancione, sono scesi in piazza bloccando in particolare a Napoli la circolazione. Per tutte le categorie commerciali, alimentari esclusi, le serande rimarranno abbassate praticamente per tutte le festività, salvo nei giorni arancioni. Gli italiani insomma dovranno rimanere chiusi in casa, vietato salvo uscire dal territorio comunale anche nei giorni feriali. Uniche deroghe è la possibilità per due persone o più, se con fili di meno di 14 anni, di recarsi per Natale a casa di un'altra famiglia oppure in chiesa per partecipare alla Santa Messa. Dal 28 al 30 e il 4 gennaio, anche chi abita in un comune con meno di 5.000 abitanti potrà spostarsi in un raggio di 30 km. Le misure restrittive adottate dall'Italia, che si adegua in questo modo ad altri Stati europei, dovrebbero abbassare la curva epidemiologica in maniera incisiva, anche se le notizie in arrivo da Londra non sono incoraggianti. Il virus sta mutando, diventando più aggressivo e più contagioso. Ma la campagna vaccinale che partirà il 27 dicembre lo fermerà, ha assicurato il Ministro per la Salute Roberto Speranza, sostenitore della linea dura da tenere. Nel frattempo, il Ministro ha invitato gli italiani a rispettare le regole. State in casa, l'imperativo di fondo del Governo, a cui ci dovremo adeguare tutti, salvo esigenze lavorative o motivi di salute. In questi casi, chi dovrà a gioco forza uscire dovrà munirsi rigorosamente di autocertificazione.